Solo posti in piedi, questo è stato il benvenuto del pubblico che ieri sera ha gremito il giardino dei miti di Pomigliano d'Arco per assistere al primo dei nuovi spettacoli nel cartellone dei nostri miti Festival Teatrale. Un evento ormai consolidato e promosso dall'Associazione Vincenzo Ferraro, nato da un'idea di Tutò Caprioli con la direzione artistica per il secondo anno consecutivo del regista e autore Felice Pannico. La quinta edizione è una conferma, è un grande traguardo quello di quest'anno. La nota più positiva è questo pubblico che ogni anno cresce ed è per tutti noi un motivo di orgoglio. Il quinto anno è un compleanno importante e appunto per festeggiare questo quinto anno abbiamo allargato e moltiplicato i sentieri teatrali del Festival, quindi spazio al Grande Teatro d'Autore, spazio quest'anno al Giovane Teatro. Però abbiamo voluto ospitare tre compagnie tra le più rilevanti del Giovane Teatro Italiano. E terzo ambito mi rende particolarmente felice, scusate il gioco di parole, ma è così la creazione della sezione I nostri piccoli miti. Tre spettacoli che andranno in scena al martedì pomeriggio, appositamente concepiti per il pubblico dei bambini e delle famiglie. Giunto alla sua quinta edizione il Festival è stato aperto dal talentuoso Giovanni Esposito, noto al grande pubblico non solo per alcuni film tra cui Benvenuti in casa Esposito, ma anche per le recenti partecipazioni a Fortunati programmi televisivi condotti da Stefano De Martino. Esposito ha incantato il pubblico con il monologo Le Rue aveva comprato un coltello, scritto da Enrico Iannillo. Il racconto è visto agli occhi di questa bambina che viene portata dal padre, quasi in un segreto, la mamma non deve sapere niente, il lunedì in Albis alla reggia di Caserta. Questa bambina si trova alle prese con questa maestosità di questa reggia e con un professore che gli racconta le meraviglie della reggia. E questo si unisce diciamo un po' alle emozioni, al divertimento di questa famiglia un po' sconclusionata. I nostri miti festival teatrale inserito all'interno del cartellone di eventi estivi del comune di Pomigliano d'Arco da cui ha ottenuto il patrocinio. Presenti allo spettacolo di apertura anche il vice sindaco Domenico Leone e gli assessori Elvira Romano, Mattia De Cicco, Giovanni Russo e Vincenzo Caprioli.